Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Gwenda Goria e Mirko Gancitano sono diventati genitori. Si sono sposati a maggio e ora sono pronti a una nuova vita insieme al piccolo Noah. Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah, così Gwenda Goria ha annunciato la nascita del primo figlio. Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai, ha scritto il neopapà. Il parto di Gwenda Goria con tutta la famiglia. Al parto ha assistito tutta la famiglia di Gwenda Goria e Mirko Gancitano. Sono arrivati i suoceri dalla Sicilia. Mamma Maria Teresa Ruta ha baciato il pancione fino all'ultimo. Papà Amedeo Goria è apparso emozionato mentre stringeva tra le braccia la figlia. Una festa in ospedale per tutti fino all'esplosione di gioia con la nascita del primo genito di Gwenda e Mirko. Tutto documentato in un video riassuntivo sui social che mostra alla fine il pugnetto del neonato. Le prime foto e le dediche social alla nascita di Noah ho bussato alla porta e sono entrato alle 10 e 30 di ieri mattina 25 luglio, nella vita di mamma e papà. Mi chiamo Noah e peso 3,850 kg. Ha scritto Mirko Gancitano presentando il figlio su Instagram. Non abbiamo mai sentito il cuore battere così forte e la dedica di Gwenda Goria. La nonna Maria Teresa Ruta ha aggiunto, una nuova vita. La nostra gioia più grande. È arrivato Noah. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.